buongiorno da obiettivo news oggi 4 marzo e san casimiro oggi ricorre il world obesity day la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell'obesità la giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo 2024 ha come slogan parliamo di obesità e con l'intento di avviare conversazioni trasversali guardare alla salute ai giovani al mondo che ci circonda per affrontare insieme l'obesità condividendo conoscenze strategie purtroppo chi convive con l'obesità deve spesso affrontare una stigma sociale il servizio sanitario deve quindi supportare e promuovere la salute sia fisica che mentale delle persone obese per affrontare l'obesità e sui fattori di rischio oggi anche la giornata nazionale dei pisarei e fase e la giornata internazionale del pancake che corrisponde alla nostra torta a quattro quarti negli stati uniti si prepara con quattro ingredienti farina burro uova zucchero ciascuno nella stessa quantità tra i nati di oggi nominiamo lucio dalla 1943 paolo virzi 1964 e umberto tozzi 1952 tra i scomparsi ricordiamo invece luke perry 2019 nove